Ciao Alfredo, come stai? Ciao, tutto bene, e te? Bene, bene. Allora ti ho invitato qua, che questo piccolo video andrà sul mio canale YouTube, quindi come Key Study. Mi sono preparato anche un po' di domande, quindi facciamo una piccola introduzione, quindi spiego un attimo io in maniera molto generale e poi ci tuffiamo nelle domande, siccome voglio tenerlo corto. Tutti mi dicono che faccio io. Quindi Alfredo è un mio cliente e lavoriamo da circa due mesi insieme, è un imprenditore opera nel campo, principalmente su Instagram, nel settore dello sport, ha varie pagine che va a monetizzare attraverso Instagram, poi comunque anche i suoi investimenti e altre attività. Allora Alfredo, la prima domanda è, racconta quali erano le influenze negative che facevano a peggiorare la tua performance lavorativa? Allora, guarda, quando abbiamo iniziato ero uno che lavorava molto, ok? E lavorando molto non mi concentravo alla fine su quella che era la mia salute, quindi tendenzialmente dormivo poco, magari andavo a letto molto tardi e mi dovevo svegliare presto, quindi mancanza di sonno e di conseguenza mancanza di concentrazione. E mi trascuravo a volte, quindi pensavo solamente a lavorare, lavorare, lavorare e mai ad altri aspetti che mi permettessero di essere riposato, essere focus, essere energico. Quindi a volte saltavo magari anche l'allenamento per lavorare, mi capitava di allenarmi a zero una volta alla settimana quando in realtà adesso sto molto meglio, quindi sicuramente i problemi erano questi, quindi il tanto lavoro e poca importanza quella che era la salute, insomma. Facciamo questo ragionamento logico, ok? Il fatto che avevi poca energia, poco focus e non dava importanza alla tua salute perché la salute in generale ti porta ad avere determinati benefici. Che conseguenze aveva sulla tua attività? Beh, allora sicuramente la conseguenza era che mi perdevo nel fatturato, quindi non essendo poi produttivo al 100%, diciamo lasciavo i soldi sul tavolo, quindi non ero concentrato al 100%, di conseguenza non arrivavo insomma a quelle cifre che avevi potuto fare, quindi sicuramente questa era una delle conseguenze. Sì, come dico sempre spesso, hai usato anche questo termine perché avendo fatto la call di vendita con me, ti ho fatto anche quello switch logico, poi ne approfondiremo in questa intervista, del fatto che le persone pensano che se danno importanza alla salute non guadagnano soldi. Come dico sempre a voi, comunque che siete dentro nella performance, anche nella call di vendita, che andando a ottimizzare la tua salute, ottimizzare la tua performance, quindi a lavorare ad alta performance, è ovvio che vai a guadagnare più soldi. Questo collegamento, ok, del fatto che lasciavi i soldi sul tavolo, l'hai capito dopo che ti sei interfacciato con me, che mi hai conosciuto su Instagram, o eri già conoscenza primo? Allora, diciamo che sì, un minimo di riconoscenza, ma non davo la giusta importanza. Sicuramente nella chiamata iniziale in cui ci siamo sentiti, mi hai fatto ragionare un attimo, mi hai fatto fare insomma questo switch a livello mentale, mi hai fatto capire dove stavo sbagliando, cosa potevo rimediare e migliorare, poi implementare all'interno della mia routine e migliorare poi di conseguenza. Quindi sicuramente sì, era un aspetto che sapevo, ma da solo sai com'è, comunque magari uno ci pensa, però non sai effettivamente qual è la soluzione. Quindi insomma, senza di te non avrei dato la giusta importanza come ora, ecco. Ok. Allora, questa è una strana domanda particolare, ok, però faccio tutte le mie interviste, ok? Cioè, ti ricordi quando abbiamo fatto la call di vendita, com'è stata? Quindi cerca di ricordarti com'è stata la call di vendita, com'è? Allora, nella call di vendita, dico la verità, mi hai sorpreso, nel senso che sai com'è, quando magari fai una call di vendita, una persona quasi ti obbliga, ok? Il classico venditore tende a chiudere, ok? Dove chiudere l'affare, deve chiudere il pacchetto, tutti i costi e quindi magari a volte ti forza un attimo. Invece quando ho fatto la call di vendita con te, non mi hai venduto nulla, quindi mi hai solo spiegato cosa stavo sbagliando, cosa dovevo fare per poter appunto rimediare a questi errori che stavo facendo e mi hai fatto ragionare, quindi con una serie di domande e una chiacchierata che abbiamo fatto insieme, mi hai fatto insomma ragionare su tutto quello che insomma avrei potuto implementare per poter migliorare, quindi insomma la call è stata una call diversa rispetto alle solite se vogliamo dirla. È stato totalmente diverso perché appunto non mi hai venduto quello che dovevi vendermi, mi hai aiutato in primis, mi hai dato valore, mi hai fatto capire dove stavo sbagliando ecco e su che strada avrei dovuto prendere insomma per poter migliorare. Sì, sì, perché comunque adesso per le persone magari che prenoteranno colpi avanti non ci sarò più io che andrò a gestire un venditore, però comunque la stessa filosofia che impartisco al mio team, cioè che non dobbiamo prendere tutti, semplicemente spieghiamo logicamente come possiamo aiutare una persona, che cosa sta sbagliando e poi vediamo lì. Se io gli spiego logicamente che può migliorare, può aumentare i suoi guadagni andando a lavorare sulla performance, se poi la persona non vuole, ha dei limiti, ok? Come ogni persona ha dei limiti. Ok, allora, vabbè la domanda che potenzialmente, vabbè potenzialmente ti ricordi sempre quando ci siamo conosciuti, quando hai detto quanti soldi stavi perdendo, ok, dalle tue attività, perché non è che hai un'attività tu, io so che hai più attività. Potenzialmente. Sì, allora, sì, 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 no, allora guarda, sicuramente questa è una domanda che mi avevi fatto, mi ricordo, nella call di vendita e che, a dir la verità, non ti ho risposto perché non avrei comunque saputo quantificare, ok? Poi comunque dopo tutti i ragionamenti che abbiamo fatto assieme, tutto quello che insomma mi hai spiegato, sicuramente intorno ai 4-5 mila euro mensili, quindi magari ogni tre mesi almeno un 12-15 mila euro sicuramente di fatturato veniva perso con la mia routine errata, con tutto quello che stavo facendo e che non implementavo in quel momento, quindi sicuramente intorno a queste cifre. 15 mila euro, sono tanti. Penso che là fuori conosco tanti, tanti imprenditori che sono venuti in consulenza con me, che perdono anche più soldi o meno soldi, ok? Magari quelli che sono all'inizio, che hanno il lavoro tradizionale e poi hanno un business avviato, lì lo switch lo fa se stanno lavorando ad alta performance, riescono subito a fare lo switch. Però avendo quella mentalità ancora un po' da operaio, quelle abitudini, questo diciamo switch avviene in anni e anni e anni, ok? Sì, sì, no, certo. Piano piano. E questa è una cosa che nessuno spiega, perché anch'io l'ho imparato a mie spese. Non è che ho visto dei video YouTube su questi concetti. Ok, allora, vediamo. l'altra domanda che volevo fare è, queste sono domande specifiche, perché voglio farti queste domande specifiche, perché voglio far capire anche al mio pubblico, ok? Perché sai, nel gioco dell'imprenditoria, ok? Immagino che anche te, questa è anche una domanda che ti faccio già subito, cioè che hai investito tanto informazione, migliaia di euro in formazione, vero in questa cosa qua. Certo. E mi dici come ti senti quando compri un corso, una mentorship? Cioè, è una gratificazione istantanea, nel senso, ti senti felice? Spiegami un po'. Sì, sì, no, certo, assolutamente. Allora, la formazione è la prima cosa, in assoluto, per chi vuole migliorare la propria attività, scalarla, avere anche un mindset diverso, quindi anche corsi di mindset, ho comprato di marketing, di vendita e tutto, quindi secondo me comprare un corso è uno dei pochi metodi che ti permette poi di migliorare, ma come anche crescita personale, ecco. Quindi sicuramente il fatto di comprarlo, sì, assolutamente, è una gratificazione, anche se comunque più che un corso, magari io preferisco una mentorship, quindi magari un percorso one-to-one con una persona come stiamo facendo noi assieme, insomma, in questo periodo di tempo. Però assolutamente ho investito davvero tanto, soprattutto nell'ultimo anno in corsi e davvero mi è servito, certo, assolutamente. Per te, che è il periodo in cui magari investito più in informazione, stavi lavorando, stavi operando al 100% della tua capacità, quindi stavi applicando al meglio tutte le informazioni che stai acquisendo, o sei consapevole che gran parte dell'investimento che hai fatto sui corsi non è stato monetizzato a causa della tua performance? Sì, allora, diciamo che implementare ogni singola informazione che trovi comunque all'interno dei corsi di letture, eccetera, è sempre comunque difficile. Quello che faccio è comunque riassumere un po', diciamo, tutto, delle informazioni e cercare di applicarle il più possibile. Sicuramente, però, con la routine che avevo prima, diciamo che una buona fetta, sì, la implementavo, però c'era anche quella minima parte che, anche a causa ovviamente del tempo del lavoro e tutto, non riuscivo a implementare al 100%. Quindi sicuramente, ecco, è il percorso con te mi ha aiutato anche in questo, quindi a capire cosa andare a scegliere di informazioni, cosa implementare e per poi, insomma, migliorare sempre di più. Quindi sicuramente prima, con l'abitudine che avevo, riuscivo sì a migliorare dalle informazioni, però non al 100%. Ecco, bella risposta questa. Allora, penso che tutti lo sanno che i miei percorsi comunque non sono economici, ok? Tanti brinditori investono migliaia di euro per stare con me a tre mesi, sei mesi o un anno, ok? Migliaia di euro. Come hai investito te a migliaia di euro? Com'è? E volevo un attimo capire che cosa, riesci ad identificarmi, che cosa ti ha fatto capire che dovevi fare questo percorso? Cosa ti ha spinto nel dire, devo per forza fare queste cose qua, ora? Sì, sì, sì. Allora, guarda, assolutamente la prima cosa che mi ha colpito erano le tue storie. Quindi le tue storie che mi ritrovavo perfettamente in quello che scrivevi, ok? Quindi mi sono, ovviamente dopo un bel periodo che ti seguivo sui social, leggevo continuamente quelle che erano appunto le tue informazioni, gli spunti che davi, tutto quello insomma che condividevi. Mi sono ritrovato al 100% in quelle parole. Allora comunque magari all'inizio ero un po' incuriosito, ecco, e ti ho contattato, abbiamo fatto questa prima conconoscitiva, mi hai approfondito un attimo al meglio tutto. Però sicuramente quello che mi ha portato poi a investire questi soldi, è in primis le informazioni che tu fornivi e poi il valore che mi hai dato successivamente nella prima chiamata conoscitiva. Mi hai fatto capire comunque che eri la persona giusta, secondo me, a cui affidarmi in questo percorso per poter migliorare, insomma, e arrivare al risultato che finora abbiamo raggiunto. Ok. Allora, siccome stiamo lavorando da due mesi e qualche giorno, ho pubblicato anche i screen di un piccolo caso studio, cioè che hai incrementato i tuoi guadagni dopo due mesi, e volevo capire come ti stai trovando sinceramente dentro il percorso. Cioè, cos'è quella cosa che ti piace del mio percorso? Comunque capisci che c'è tanto valore nel performance? Sì, allora, sicuramente la tua presenza. Quindi io ho seguito anche altre mentorship, magari sì, li paghi una volta a una persona, ma poi sparisce tendenzialmente, più delle volte comunque se ne frega di te, ok? Ti vedo con un numero. Quindi sicuramente il valore che dai tu, l'essere presente, anche banalmente rispondere su WhatsApp, nemmeno aspettare 24 ore, ma rispondere in qualche minuto o qualche ora, fa la differenza rispetto agli altri. Quindi sicuramente mi sto trovando in bene in questo, la tua costanza, la tua presenza, l'essere presente, nell'interessarsi a quelli che sono i risultati, a come sta andando. Quindi sicuramente l'essere presente è la prima cosa. Poi ovviamente tutte le informazioni che fornisce a livello tecnico, che comunque sono cose nuove in Italia, che non si vedono da nessuna parte, ok? Quindi questa innovazione anche che stai portando, queste informazioni che comunque sono prettamente magari del mercato americano, sono un ottimo aiuto e mi trovo bene anche, soprattutto per questo motivo, ecco. Domanda veloce. Sicuramente non abbiamo detto quanto costano i miei percorsi, però uno può aspettarsi. Dopo che hai già lavorato con me, quindi due mesi, andresti a investire in un percorso come 30.000 euro per un anno? Avendo già visto i risultati, ok, e sapendo dove tu puoi arrivare adesso, noi ci siamo posti degli obiettivi, ok? Sì. Per te c'è un valore nell'offerta andare a investire 30.000 euro per un anno? Com'è? Per favore sulla performance, su di sé? Certo, allora, assolutamente. Premetto che comunque in primis, come hai detto tu, è un investimento, ok? Quindi non è una spesa in cui vai a spendere 30.000 euro, non ti ritornano, ok? Non è un oggetto materiale che stai comprando e sai che si deprezza poi nel giro di poco tempo, ma è un vero e proprio investimento con un ritorno, ok? Il ritorno poi sono i guadagni che hai poi dalla tua attività, quindi assolutamente questi 30.000 euro saranno investiti. Io assolutamente le investirei, senza dubbio, senza problemi, con la consapevolezza che sicuramente ci sarà un ritorno su questo. Quindi io ragiono in ottica appunto ROI sul ritorno sull'investimento, quindi investo questi 30.000 euro, so che sarà un per tre, per quattro, nel giro di poco tempo, nel giro di un anno, comunque so che sicuramente sarà un investimento che porterà a un ritorno futuro, ecco. E li avresti investiti anche prima di entrare in call conoscitiva e call di vendita con me? Allora, no, nel senso, no, beh, perché comunque è normale, nel senso quando si parla di cifre comunque abbastanza importanti, è normale che una persona non si fida al 100% subito e non sa cosa andrà incontro, non sa qual è, insomma, poi il risultato anche che raggiungerà. Quindi magari all'inizio ovviamente punti, magari a pacchetti medi, medi o comunque i primi, ok? Perché alla fine è anche una questione di fiducia. Però ovviamente col tempo, poi sto vedendo come stiamo lavorando bene assieme e sicuramente ora come ora lo farei. Prima, all'inizio, sicuramente magari ci avrei pensato due, tre, quattro, cinque volte, ecco. Allora, questa è una domanda, stai attento a questa domanda. Allora, gli risultati che hai ottenuto per te, per la tua attività, sono derivati di più dai sistemi che ti ho fatti implementare o dal fatto che avevi me come coach e ti davo accesso a videochiamate, ci potevano sentire, quindi avevi me realmente che ti diceva, ok, devi fare così, ti sgridavo, fai così. Qual è per te la cosa che ti ha portato di più risultato? Il supporto di sistemi o il supporto di un coach? Allora, sicuramente il supporto. Come ti ho detto prima, alla fine quello che mi ha fatto trovare bene nel tuo percorso è l'assistenza. Quindi l'assistenza, l'essere presente, l'essere pressante a volte, ok, è quello che ha fatto la differenza. Quindi sicuramente i sistemi, certo, possono funzionare assolutamente, però li trovi dappertutto, ok? Invece la presenza di una persona fisica che soprattutto si interessa a te, ok, non la trovi molto facilmente, ok? Quindi sicuramente oltre ai sistemi anche il tuo supporto, la tua assistenza è quello che poi mi ha fatto migliorare e poi anche farmi trovare bene, insomma, nel tuo percorso e con te. Diamo un po' di consigli, ok, alle persone che guarderanno questo video, giovani imprenditori o imprenditori già avviati. Tre consigli che dai a giovani imprenditori che hanno performance altare in anni e che non riescono a capire che stanno perdendo soldi, perché la mia comunicazione comunque sui social è basata performance basse, pochi soldi o guadagni instabili. Quindi che cosa, che consiglio daresti a una persona che ti si presenta e ha performance basse e non è consapevole che sta perdendo dei guadagni? Come fai a convincerlo? Allora, se devo dare dei consigli, allora, quello che sicuramente consigli lei è di lavorare sul mindset. Quindi il mindset è la prima cosa, quindi di leggere assolutamente tantissimi libri sul mindset, sia sulla crescita personale, studiare, informarsi. Anche YouTube banalmente può essere un ottimo metodo per poter migliorare a livello di mindset e tutto. Quindi sicuramente il primo consiglio è questo. Il secondo è di valutare la performance come un aspetto importante. Quindi con performance, in primis, ecco, il sonno, che è la prima cosa, lo stress, lavorare sullo stress. Anche l'allenamento è una componente fondamentale all'interno, per un imprenditore in generale, ma anche per una persona normalissima. Ecco, l'allenamento, l'alimentazione, quindi la performance racchiude tutte queste cose che se combinate nel migliore dei modi, poi ti portano a un risultato non solo a livello di salute, anche estetico, ma anche appunto di performance lavorativa, ecco. Quindi sicuramente queste due cose, mindset, performance, e la terza, l'investire in formazione. Secondo me, come ti avevo detto prima, formazione è la prima cosa. Formazione, formarsi, imparare nuove cose, corsi, mentorship, percorsi, one-to-one, sono quelli che secondo me ti fanno poi migliorare all'interno della propria attività. E conoscere nuove cose, fare nuove esperienze, sicuramente questo sono i tre consigli che do. Ottimi consigli, ottimi consigli, quindi ragazzi, quelli che stanno ascoltando, se non state facendo, implementate, ok? Stavo facendo cadere il tavolo, sono qua in casa perché non è ancora pronto lo studio. Devo fare lo studio, comprare la scrivania regolabile, ho guardato le scrivanie da gamer, penso ne prendo due, una da gamer, tipo di pelle, e una tipo è più basic, e poi un microfono. Ci sta, ci sta. E una fotocamera che mi punta, perché voglio fare i video YouTube, tipo fighi, quindi mi prendono più angolazioni. Ok. Dai. Andiamo. Allora. Cosa pensi di chi ha problemi riguardanti la performance ed è sicuro di poterli risolvere col tempo in maniera autonoma? Allora, penso che è la stessa cosa che pensavo io, nel senso che pensavo, anzi, all'inizio non davo nemmeno importanza, quindi non ne davo nemmeno importanza, poi quando mi sono accorto che non ero più produttivo, come prima non riuscivo più a dare la stessa energia, lo stesso focus, pensavo di poterlo risolvere in maniera autonoma, col tempo, ma ho visto che da soli, soprattutto se non si ha le conoscenze, è davvero difficile poter risolvere questo problema, insomma, di performance, di focus e di energia. Quindi quello che penso è il consiglio anche che do è di affidarsi appunto a qualcuno che possa guidarti e migliorare poi nel corso del tempo. Quindi autonomamente, se non si hanno le basi, le conoscenze per poter risolvere un problema, ci si affida a qualcuno che è in grado di risolverlo. Quindi questa è la prima cosa assolutamente. Per quanto riguarda invece la mia offerta, il mio mercato, tutto comunque vado a colpire, che è brutto dire andare a colpire, vado ad aiutare imprenditori, adesso anche aspiranti imprenditori, ho aperto le porte anche aspiranti imprenditori, trading, ok, sei visto nelle storie. Sì, sì. Come pensi che si muoverà questo mercato di performance? cioè hai visto altri coach come me che magari mi stanno facendo competizione o prima di entrare con me hai valutato altri coach? Dimmi un po' cosa pensi proprio di me come coach, di quello che sto facendo e di quello che sto portando avanti come movimento. Allora, sì, allora, quando abbiamo iniziato avevo visto solo te, comunque come ci hai detto prima, secondo me sei il primo davvero che porta in Italia queste informazioni, tutte queste cose tecniche comunque, quindi non avevo visto nessun altro. Adesso, pian piano, ho visto che stanno spuntando un po' come funghi e stanno anche un po' imitando visto, quindi sicuramente tu sei il primo, però ho visto che piano piano è un mercato forse che è ancora molto indietro in Italia che si deve ancora espandere, però comunque quei pochi che ho visto che sono nati da poco stanno portando gli stessi tuoi contenuti, uguali identici che stanno riprendendo i tuoi profili e stanno ripostando, quindi insomma sono delle brutte copie, insomma, tu sicuramente sei il primo ad aver portato queste informazioni, quindi anche per questo mi sono affidato a te, non c'era nessun altro. E per quanto riguarda Uraling che è il dispositivo che incuriosisce di più le persone, come potete vedere qua stranea che va a tracciare il sonno, quello che vado anche a dare ai miei clienti, e poi ovviamente c'è chi magari lo tiene tutto il giorno, c'è chi la notte, c'è chi utilizza Whoop, dipende. Sì, sì, sì. Cioè, lo conoscevi prima di conoscermi questo dispositivo o ti si è aperto un mondo quando ti si è interfacciato con il phone? Allora, avevo sentito parlare, però non l'avevo mai approfondito, perché era davvero Uraling. Adesso non ce l'ho su, che tra l'altro l'ho denominato di là in stanza, però non ce l'ho su. Lo metto di solito la sera. Comunque lo conoscevo relativamente, nel senso che non avevo mai approfondito al 100%, e anche qui può essere un ottimo strumento che mi hai spiegato nel dettaglio, è approfondito appunto nella nostra call, è un ottimo strumento per tracciare la performance, sonno, capire quanto è una persona produttiva, quindi è uno strumento molto valido che utilizzo giornalmente. Quindi assolutamente, anche qui, ti ripeto, non ho visto mai nessuno avere un'offerta del genere con anche orari incluso, spiegazioni, tecniche, tutto, analisi dei dati, quindi davvero è un qualcosa di ottima qualità. Io direi che abbiamo parlato di tanto, che hai come detto, volevo tenere questo caso studio non troppo, 30-40 minuti. Ok, quindi finiamo con un'ultima domanda. Comunque ti ringrazio anche adesso, Alfred, per essere qua con noi e poi quando pubblicherò il video te lo dirò, penso, settimana prossima. Devo fare l'immagine copertina, quindi poi ti scriverò, magari mi mandi qualche foto. Ok, va bene, va bene. Niente, la domanda è che consiglio dai alle persone che si interfacciano per la prima volta in questo mondo, quindi sono un po' scettici perché non mi conoscono, ok, non si fidano magari di investire migliaia di euro in coach che va a lavorare solo su se stessi, sulla propria salute, sulla propria performance, perché qualcuno dice non vede valore, quindi che consiglio, che consiglio dai tu a queste persone che non mi conoscono? Siccome tu mi hai conosciuto e abbiamo lavorato, stiamo lavorando già da due mesi. Certo, certo, allora guarda, sicuramente il primo consiglio è quello di leggere al 100% quello che tu scrivi nelle storie, i tuoi contenuti, in quello che pubblichi in modo da entrare in primis in questo mondo e capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Quindi sicuramente il primo consiglio è questo, quindi informarsi, seguirti e leggere ogni singolo contenuto che metti, molto interessante e se una persona ovviamente poi si ritrova in queste parole, vede che ha questi problemi, sicuramente l'altro consiglio è quello di per notare una chiamata conoscitiva. Come ho detto prima, tu forse a volte sbagli a non vendere direttamente il suo servizio ma dare troppo valore addirittura alla persona, quindi sicuramente prenotare una chiamata conoscitiva con te, approfondire l'argomento e magari valutare dove una persona sta sbagliando ecco e capire la giusta strada. Quindi sicuramente gli aspetti importanti sono questi, quindi capire bene di cosa si sta parlando, dell'argomento, leggere tutti i tuoi contenuti e poi parlare poi direttamente con te e valutare cosa si può fare assieme per poter migliorare. Quindi queste sono le due cose assolutamente. Mi ha fatto venire uno spunto cioè di mettere a pagamento la colconoscitiva. Io lo sai che ci ho pensato però nel senso che la colconoscitiva come ti avevo spiegato è una questione che non voglio vendere a tutti, la colconoscitiva è soltanto per valutare un attimo che atteggiamento ha la persona, che tipo di livello è, mindset, abitudini, tante cose e poi capire ok, con questa persona voglio lavorarci assieme per tre, sei mesi, ok, vediamo di andare a spiegare il percorso perché non tu, adesso sono ancora più, quando sei entrato te due mesi fa, due mesi e mezzo fa, le selezioni non erano così rigide come ora. Ora che sto allargando il team, sto impostando più regole fisse alcuni non entrano neanche nella seconda, seconda cortico, al momento ci sono i presupposti perché non ho bisogno di gigantire con tanti clienti, ma mi sembrano i clienti giusti, come adesso tu sei qua per filmare il caso studio, ovviamente se non ottenevi i risultati non avresti accettato, nel senso saresti venuto qua e mi avresti detto ecco, non mi piace, non so, il percorso, però è dare giusto supporto ai miei clienti così da avere migliori caso studio e piano piano poi incentivare il passaparola e gioco un composto, un effetto composto, quindi piano piano dando giusto supporto a ogni cliente che entra avendo un caso studio mi posso dominare il mercato, posso espandermi molto più in fretta rispetto a magari a persone che entreranno tra un anno o due anni, magari avranno anche più soldi di me, però io ho i risultati che penso che per un business questo è quello che conta, essere sicuri che la persona mi paga totte e io gli posso dare come output quello che lui vuole. Certo, assolutamente, assolutamente, d'accordissimo. Va bene Alfred, allora, io direi che ti ringrazio ancora per essere stato qua a questa intervista, voglio ricordare a tutti i ragazzi che vogliono andare a prenotare una call prima di prenotare una call potete andare sul mio Instagram e scrivermi sul mio Instagram informazioni per i miei servizi e lì avvieremo una chat, vi farò qualche domanda per capire se ci sono tutti i presupposti per prenotare una call conoscitiva, quindi si fanno le cose fatte bene, ok? Non faccio entrare tutti in call. Grazie Alfred, ti auguro buona giornata e figurati, a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.